Ciao, ho trovato dei cipollotti freschi e ne approfitto per farli con pancetta di maiale Allora, mi sono fatta tagliare la pancetta di maiale abbastanza sottile Ho lavato bene e pulito i miei cipollotti e adesso arrotolo intorno al cipollotto la pancetta di maiale Dopodiché questi li facciamo grigliati Gli ingredienti sono solo questi due, cipollotti freschi e pancetta di maiale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco, i cipollotti con pancetta sono pronti Adesso andiamo a cuocerli in griglia Grazie a tutti